Pensavamo tutti questi investimenti pubblicitari che inevitabilmente abbandoneranno la carta perché i numeri della carta stanno crollando non potranno che arrivare su internet e quando arriveranno su internet noi saremo pronti a raccogliere i soldi. Ciao raga oggi nuovo episodio di Cheers prima di cominciare se ci state ascoltando su Spotify o su YouTube ricordatevi di lasciare un like seguire il podcast e di attivare la campanellina per non perdervi neanche un aperitivo. Comunque oggi siamo stragasati perché siamo in compagnia dell'un official godfather dei podcast in Italia, uno dei giornalisti più apprezzati del nostro paese, vice direttore del post e soprattutto voce della mia coscienza tutte le mattine dalle 8 alle 8 e mezza mentre ascolto Morning, il suo podcast tra i più seguiti d'Italia e che l'anno scorso ha sbaragliato la concorrenza ai pod awards vincendo praticamente tutti i premi che un podcast può vincere in Italia. Quindi già ormai l'avete capito siamo stracontenti di essere qui oggi con Francesco Costa, benvenuto a Cheers. Ciao grazie, grazie mille dell'invito anche di questa presentazione che responsabilità sono la voce della tua coscienza. La voce della mia coscienza tutte le mattine. Se fai degli errori durante la giornata è solo e soltanto colpa tua. Francesco Costa. Ma mentre ci hai portato la Schweppes. Vi ho portato la Schweppes. Come mai questo ha scelto? Beh intanto perché dato che poi devo parlare per due ore o non so quanto durerà la nostra caccarata e prendermi il reti personale, quello che dico meglio una bevanda analcolica pensato e poi avevo un rito con un amico che doveva bere delle cose analcoliche perché era a dieta e il suo nutrizionista gli disse l'unica cosa che puoi bere la Schweppes e allora io per fargli compagnia cominciai a bere anche io la Schweppes e quindi voglio bene a questa bevanda e volevo condividere con voi. Ok ok, una nuova personale quindi ci sta. Intanto che ci versiamo un po' di Schweppes come stai? Come sei fatto di bello oggi? Bene sto bene stamattina ho fatto morning come sempre, come sempre diciamo salvo nei fine settimana, salvo tra domenica, poi sto lavorando a una cosa che potreste vedere a un certo punto in televisione, spero, in primavera e quindi stamattina ho lavorato un po' a quella cosa lì, ho pranzato con il capo della saggistica di Mondadori, c'è anche il mio editore così per aggiornarci un po' per raccontarci un po' di cose, poi ho fatto un'intervista con un altro podcast, perfetto per fare un po' di economia di scala chiaramente, e poi sono venuto qua. Ottimo, quindi giornata piena. In mezzo a rispondere alle mail, messaggi, ordinari amministratori. Allora facciamo un bel cheers a questa giornata. Cheers direi, assolutamente. Cheers, salute. Prima durante l'introduzione parlavamo chiaramente di morning, però molto prima di morning nel 2016 tu sei partito con Da Costa a Costa, quindi praticamente uno dei primissimi podcast in Italia, tu viaggiavi in America, chiaramente raccontavi le cose che vedevi e ti finanziavi con le donazioni degli ascoltatori di questo podcast. Interessante capire com'è che nasce quest'idea in un momento in cui 6-7 anni fa praticamente nessuno sapeva neanche che cosa fossero i podcast, specialmente in Italia. L'idea nasce in realtà non da un podcast ma da una newsletter. Quel progetto lì era una newsletter, non aveva nemmeno un nome, non si chiamava Da Costa a Costa, era una newsletter in cui raccontavo dell'attualità americana ogni sabato. L'avevo cominciata principalmente per me, per ricominciare a seguire con più costanza le cose americane che ho seguito all'inizio della mia carriera e per raccontare la campagna elettorale che stava cominciando, era giugno del 2015, senza sapere che quella campagna elettorale sarebbe diventata la più assurda di sempre, prima che si candidasse Trump, per cui quando poi si candidasse Trump io mi ritrovo anche ad avere un colpo di fortuna, nel senso che mi ritrovo al posto giusto, al momento giusto, le persone volevano sapere che cavolo sta succedendo in America e ero lì. La newsletter la mandava attraverso un servizio gratuito che si chiamava Tiny Letter, gratuito finché tu non superavi una certa soglia di iscritti. Che poi ovviamente è stata superata. Che poi è stata superata molto rapidamente, era qualche migliaio e quindi io dovevo, non solo facevo questa newsletter gratis, dovevo anche metterci dei soldi. Ero disposto a farlo perché comunque mi stavo divertendo, imparavo delle cose, stavo costruendo un pubblico e quindi era una cosa utile. Però ho provato a, ma senza averci pensato molto, non c'era un business plan, non c'era un piano, a raccontare tutto questo in modo molto trasparente, dicendo io uso questo servizio da qui alla fine delle elezioni, se continuiamo a crescere di questo passo mi costerà credo che fosse 8-900 euro in tutto. Ok, ok. Io ce li metto di tasca mia volentieri perché appunto mi piace la cosa che sto facendo, però se qualcuno di voi ha voglia di contribuire, questo è il mio account di PayPal, chi lo fa non ha diritto a nessuna, non c'era nessuna reward, ricompensa zero, solo per il gusto di aver contribuito. E in una settimana arrivarono tipo 7.000 euro. Perfetto. Per cui anche abbastanza nel panico diciamo, la settimana dopo ho detto spettetela. Da un punto di vista legale piuttosto che fiscale. Il mio commercialista si è messo le mani nei capelli, perché poi sono donazioni, non erano, non stavano comprando nulla. È infatti un casino. È un mega casino. Comunque alla fine le tasse ce le devi pagare e ce le ho pagate. Le tasse in Italia diciamo, c'è una roba abbastanza in Italia. Però ho capito che lì c'era qualcosa, cioè che le persone potevano essere disponibili a pagare, anche senza avere per forza qualcosa in cambio, se però pensavano di pagare per una cosa che per loro era interessante, di una certa qualità. Un po' come Wikipedia. Sì, se vuoi sì, esatto. E quindi quei soldi che erano molti di più di quelli che pensavo di ricevere, li ho investiti in parte nei viaggi in America, che quindi ho fatto prendendo ferie dal mio lavoro al post, finanziato dagli ascoltatori e dai lettori, in parte poi cominciando a lavorare su quel podcast. E quindi poi da costa a costa è diventato un podcast e da lì le stagioni successive è stato meno improvvisato. Allora all'inizio io suggerivo alle persone di fare una donazione, una tantum oppure ricorrente, due euro al mese, tre euro al mese, per finanziare questo lavoro dicendo tutti i soldi che io ricevo da voi li investo in viaggi in America. Quindi più voi me ne date, più io posso andare lì a raccontarvi delle cose. E ha funzionato. Quindi guilt tripping gli ascoltatori? Sto scherzando? No, qualcuno forse sì. La maggioranza delle persone non ha pagato, questo cosa bisogna dirla, ha fatto free riding. Però quello era anche lo spirito del gioco, cioè se non vuoi pagare non pagare, se vuoi pagare paga quello che vuoi. Il punto è che alla fine i conti stavano in piedi, mi hanno permesso di fare quel lavoro lì per quattro stagioni, l'ultima che è stata quella del 2020, ho raccolto 100 mila euro, la metà intatti in tasse, quindi poi in realtà uno pensa che le economie di questo tipo vanno anche gestite in un modo un po' diverso. Il mio commercialista lì davvero mi ha detto con questo tipo di volumi non la puoi più gestire in questo modo, cioè io poi l'ho messa nella mia indicazione dei redditi, ma a un certo punto l'agenzia delle entrate si accorgerà che il mio reddito normale nel 2020 è fatto tipo così e poi è tornato e mi faranno delle domande, io gli dovrò spiegare questa cosa e non sono sicuro che riuscirò a convincerli e quindi bisognerebbe costruire e oggi è possibile un'altra forma societaria o anche di crowdfunding attraverso delle piattaforme per cui non devo fare 4.500 fatture ogni mese ma magari una soltanto a un'azienda che raccoglie le donazioni e poi mi fa un bonifico ecco. Quindi possiamo dire sicuramente sei stato un precursore del podcast in Italia, secondo te ad oggi in America c'è qualche altro formato soprattutto per un discorso mediatico che potrà aver successo lì e poi porteremo qua in Italia. Interessante perché io queste cose non me le sono inventate ma stavano accadendo lì e le semplicemente diciamo riportate qua. Dunque lo streaming sicuramente ma è già qui molto forte, molto presente, non è una cosa nuova però lì lo streaming è fortissimo. Devo dire la cosa se vuoi singolare è che nei cosiddetti content creator che da noi per esempio sono fortissimi su Instagram anche rispetto all'informazione, contenuti divulgativi eccetera, lì c'è molto meno. Lì Instagram è un social media ancora molto di influencer, molto poco di divulgazione di informazione eccetera, lì c'è molto più Twitter da questo punto di vista. C'è molto meno in Italia invece. Invece c'è molto meno in Italia. TikTok si naturalmente lì spacca ma direi che anche qui non è una novità. Sai che, ah no, guarda una cosa forse sì, le newsletter lì si sono molto professionalizzate soprattutto grazie alla piattaforma Substack. Bellissimo, sì. E raccolgono veramente un sacco di soldi. Cioè ci sono newsletter che hanno centomila, centocinquantamila iscritti a botte di cinque, otto dollari al mese per cui sono diventate delle aziende, dei giornali, cioè hanno redazioni, non sei più tu che ricevi le donazioni e ti fai la tua newsletter ma dal momento in cui tu hai un budget ogni mese di cinquecentomila dollari insomma puoi fettare un ufficio, puoi assumere delle persone, puoi dare della gente in giro, puoi pagare dei guest writer e quindi, e però il prodotto è la newsletter e non è più una cosa amatoriale di crowdfunding. Sono degli abbonamenti, sono delle aziende editoriali vere. Non so se ci arriveremo qui a qualcosa del genere perché mi sembra che qui le newsletter hanno avuto un picco e poi siamo in una fase in cui sono altri strumenti che magari invece torneranno, riemergeranno in una qualche forma anche qui. E tornando invece un pochino invece più sul discorso podcast. No, eravamo molto curiosi di capire quindi come proprio operativamente funziona ogni episodio di Morning, quindi come nasce e soprattutto come fai a conciliarlo con le due o tre ore di sonno che ti concederai a notte e gli altri appunto mille impegni che hai quotidianamente. No, allora sulla parte tecnico-operativa essendo una cosa che faccio ogni mattina deve essere una routine il più possibile flessibile e leggera come attrezzatura. Nel senso a me è capitato di fare Morning in macchina pochissime volte. Nessuno se ne è mai accordo, però strano, almeno io non me ne sono mai accordo. Una volta perché l'ho dovuto fare, dovevo un aereo presto, quindi l'ho fatto tipo alle 3 del mattino e non potevo parlare a voce alta, le 3 del mattino i vicini mi sarebbero arrivati con un fucile sul pianerottolo quindi sono andato in macchina a farlo. Un'altra volta erano negli Stati Uniti e quindi nel traffico della città la mia collega Marta guidava e io facevo il podcast e come lo facevo? Con il laptop sulle gambe, con il microfono in mano e nell'altra mano il tablet con i giornali. E questa è l'unica attrezzatura che serve. Essendo anche un podcast quotidiano mi sono detto che la qualità audio può anche non essere super perfetta, è quasi come una diretta. Io pubblico Morning senza essermi riascoltato quindi taglio le cose superfluo e riascoltando la mia velocità per due, però poi il podcast lo ascolto per come è finito, come è andato quando è già uscito. Io mi sveglio tra le 4 e le 45 e ormai anche le 5 sono recuperato diciamo un quarto d'ora quindi mi sveglio le 5 che è presto ma non è una roba diciamo mi sembra abbastanza presto. Si però sai quanta gente si sveglia le 5? assolutamente. Leggo i giornali è una lettura ovviamente un po' diagonale nel senso che non puoi leggere 10 giornali dall'inizio alla fine però un po' i giornali li conosco abbastanza non avrei mai potuto fare questo lavoro sette anni fa nel senso però a forza di leggerli li riconosci, li riconosci capisco dal titolo, dall'attacco se è una cosa mi interessa, dalla firma ci sono delle persone, dei colleghi che stimo moltissimo e di cui non mi perdo un articolo, degli altri che è articolo di tizio non mi interessa magari non lo leggo, non facciamo il nome, ma accade anche al contrario. Lo scopo poi di Morning è raccontare soprattutto le cose buone che stanno sui giornali quindi a me interessano le cose di buona qualità ogni volta che trovo una cosa che mi attira l'attenzione o perché la notizia è molto importante o perché l'articolo è di buona qualità o perché è molto originale o perché mi permette di spiegare un qualche meccanismo editoriale del perché quell'articolo è uscito in quella forma, me lo appunto su un foglio di testo sul computer alla fine della lettura che dura un'ora, un'ora, un quarto, un'ora e venti questi appunti diventano una scaletta cioè di raggruppo per tema, decido cosa dire prima, cosa dire dopo, comincio a registrare, registro circa 40 minuti di parlato 40, 42, 43 secondi della giornata che sono un unico take per cui in mezzo ci sono i colpi di tosse, l'ambulanza che passa, quelli che vengono a ritirare il vetro perché abbiamo deciso che il vetro bisogna ritirarlo alle 6 del mattino è fantastico, bellissimo a Milano poi soprattutto incredibile vabbè comunque questo è l'argomento di un'altra inchiesta giornalistica di un altro contenuto del podcast oppure tutte le volte sai che devo pensare a quello che devo dire quindi delle pause a volte dico una cosa non mi piace, la voglio ridire, mi impappino una volta finito di registrare mi riascolto a velocità per 2 mi ricordo più o meno cosa devo togliere, tolgo le pause qualcosa che capita ogni tanto che la rattoppo, la riregistro però insomma l'obiettivo è a quel punto finire questa fase di riascolto mettere i jingle, la sigla, esportare il file, fare il titolo, metterlo in pagina faccio tutto io dall'inizio alla fine perché è la cosa più rapida per uscire entro le 8 poi diciamo non sempre ci riesco a volte sono le 8.02, le 8.05 però diciamo quella è intorno alle 8 forse più onesto intorno alle 8 e poi se non sono le 8 ti arrivano 250 mail ma perché non è ancora uscito Morning che ansia non sono tanto le mail qualcuno poi pensa all'inizio che è il mio telefono che ha un problema no la cosa che mi mette più ansia che devo dire fa anche un po' incavolare ma non so perché è la GIF di Mazzarri vedete la GIF di Mazzarri che fa così se io alle 8.04 i miei account social cominciano a ricevere ma un certo numero di GIF di Mazzarri e quella cosa lì un po' dico ma aspetta no? conseguenze della mia vita ovviamente molte nel senso che la mattina presto era un momento delle meggiornate in cui prima dormivo giustamente oppure lavoravo a delle cose che mi richiedevano molta concentrazione per esempio scrivere libri cioè una roba per cui il telefono non deve suonare non deve suonare il citofono nessuno mi deve chiamare eccetera e oggi non lo posso più fare né la mattina presto perché faccio Morning né la sera tardi perché devo dormire o comunque non sono nella lucidità mentale di scrivere un libro però per il resto diciamo la mia vita va abbastanza come prima cerco anche di dormo dalle 4 alle 5 alle 6 ore a notte vado a dormire diciamo tra le 22 le 23 le 23 e 30 sono pochi rispetto a quanto sarebbe consigliato diciamo dai medici per cui a un certo punto se questa cosa vedo che non va più bene ne prenderò atto e troverò delle altre soluzioni però non voglio privarmi della vita sociale dello stare con la mia fidanzata perché alle 8 devo andare a dormire non è che si vive per lavorare e quindi cerco di conciliare queste cose e certo la mia autonomia sul divano ormai è un episodio di serie tv e deve essere anche una serie molto interessante molto coinvolgente o molto breve il secondo episodio di solito poi me lo deve raccontare la mia fidanzata di giornalò parlando invece proprio dell'industria dei giornali e della professione del giornalismo sicuramente diciamo che in questo periodo stanno affrontando una crisi sia da un punto di vista finanziario perché oggettivamente si comprano sempre meno giornali che da un punto di vista qualitativo però è strano perché siamo in un periodo storico dove comunque la gente ricerca molto cioè c'è molta domanda di informazioni e di notizie quindi volevo sapere da te come spieghi questo paradosso e voi nello specifico del post cosa fate per affrontare questa crisi allora il paradosso intanto c'è i giornali online non sono mai stati letti come in questo periodo storico eppure convivono queste due crisi che hai fatto bene a specificare che sono due sono diverse la crisi industriale e la crisi professionale diciamo ovviamente sono legate tra loro ma non sono l'una necessariamente causa dell'altra cioè io non sono tra quelli che pensa che i giornali sono fatti male perché la gente non li compra sì quindi certo semmai a volte più il contrario però se andiamo al nocciolo della questione nocciolo in realtà ho scoperto che si dice nocciolo? sì è una crisi banalmente di modelli di business modelli di business che non funzionano più cioè il modo in cui tu trasformi in revenue l'interesse delle persone per il tuo prodotto che un tempo era vado in edicola compro una copia del giornale e lo facevano così tante persone che i giornali non solo guadagnavano molto dalle copie ma anche dalla pubblicità che si inserivano sui giornali oggi quel modello di business si è corrotto cioè i costi sono troppo più grandi rispetto a quanto tu riesci a far entrare in azienda rispetto dalle copie vendute o dalla pubblicità e per quanto riguarda l'online la situazione non è più rosea quando noi abbiamo fondato il post volevamo fare un giornale che fosse gratuito che non avesse paywall e pensavamo tutti questi investimenti pubblicitari che inevitabilmente abbandoneranno la carta perché i numeri della carta stanno crollando non potranno che arrivare su internet e quando arriveranno su internet noi saremo pronti a raccogliere i soldi a raccogliere i soldi a raccogliere i soldi a fare la villa con la piscina cos'è accaduto? che sono effettivamente arrivati su internet ma nella grandissima parte se li sono presi i colossi facebook e google su tutto che dominano il mercato dell'advertising online non era così quando il post è nato nel 2010 facebook non aveva questo tipo di dominio sulla pubblicità e però permettono e offrono alle aziende un livello di profilazione del pubblico molto preciso se io fossi appunto un'azienda che ha da investire un capitale per raggiungere qualcuno anche io stesso investirei su google su facebook perché permettono poi con tutte diciamo le eccezioni del caso tutti abbiamo visto delle pubblicità che non c'entravano nulla assurde assurde io ho visto i testi di gravidanza quindi dicavo boh hanno sbagliato qualcosa non sono proprio io il target secondo me però ecco sono più esatti tendenzialmente sì e quindi la pubblicità è cominciata a costare e a valere online sempre meno anche per tutti gli altri soggetti e quindi per ottenere dei soldi sono stati necessari e sono ancora necessari quintali e quintali di pagine viste di click ogni banner permette di guadagnare un centesimo di millesimo è una roba veramente irrilevante e quindi l'incentivo che hai se tu vivi di pubblicità online è massimizzare i numeri e ora massimizzare i numeri lo puoi fare in tanti modi diversi no? perché noi vediamo spesso su tanti giornali non tutti le gallerie fotografiche in estate delle vip in spiaggia no? cento foto scaricate dal profilo di Diletta Leotta certo che poi peraltro ma come ti permetti? sono mica foto tue e poi ci mettono riproduzione riservata sotto esatto perché ogni click è un banner pubblicitario mentre invece se fai l'articolo lungo approfondito e tutto quanto è comunque una foglia come si dice in gergo un banner pubblicitario cioè pensano economicamente uguale alla singola foto di Diletta Leotta è chiaro che gli incentivi economici non spingono nella direzione della qualità e però più vai giù e meno vale che la pubblicità anche per il tipo di contesto in cui inserite insomma è una corsa verso l'abisso secondo me e allora al posto il momento in cui ci siamo accorti che il nostro modello di business non stava più funzionando è stato il 2018 perché se vi ricordate è stato un anno di notizie pazzesche diciamo per gli standard pre pandemia tantomeno elezioni politiche in Italia i risultati clamorosi per tre mesi l'Italia non riesce a formare un governo tentativi che vanno a vuoto alla fine si forma il cosiddetto governo giallo verde lega 5 stelle una maggioranza strana inedita insomma noi quell'anno facciamo più 100% di pagine viste sull'anno precedente raddoppiato che noi siamo nati nel 2010 dopo 8 anni crescere del 100% è una roba grossa incredibile e incassiamo meno rispetto all'anno prima di pubblicità per cui sai se un giornale incassa meno perché viene meno letto dici è colpa tua che non è ma se tu fai il doppio dei click e incassi di meno è proprio il modello di business che non funziona noi stavamo già ragionando su coinvolgere chi legge il post nel finanziare il post con un qualche piano di abbonamenti e a quel punto abbiamo accelerato moltissimo e il piano di abbonamenti ci ha cambiato completamente la vita e l'azienda oggi noi incassiamo in pubblicità più di quanto incassavamo all'epoca ci stiamo continuando a crescere ma oggi la pubblicità pesa per il 30% dei nostri ricavi per il 70% sono abbonamenti 70 abbonamenti tantissimo e quello cambia completamente tutto non solo perché abbiamo molti più soldi abbiamo investito abbiamo assunto un sacco di persone abbiamo cambiato sede facciamo più cose io faccio morning prima non avrei potuto fare morning perché facevo delle altre cose al giornale oggi ne fa qualcun altro e quindi posso fare morning eccetera ma ti cambia proprio il modo di ragionare sui contenuti perché il nostro obiettivo oggi non è più massimizzare i click le gallerie di dirette alle 8 non le abbiamo mai fatte diciamo senza nulla voglia di dirette alle 8 ma non era quello del nostro genere di contenuto però per dire noi facevamo ogni giorno una rubrica che raccontava cosa c'è stasera in tv perché un sacco di gente arrivata alle 18 alle 19 vuole sapere e cerca su google cosa c'è stasera in tv e per noi era un modo di intercettare un traffico diciamo che veniva da google legittimo sì nel senso i giornali ce li hanno le previsioni del tempo cosa c'è in tv no è una cosa di servizio e scusa l'avete tolto questo? l'abbiamo tolto una delle primissime cose che abbiamo tolto perché in realtà per noi nel momento in cui non ci importa più massimizzare i click facendo una cosa, ripeto, vignitosissima però il tempo che una persona impiegava a fare quella roba tanto male che fa un'altra cosa perché noi ora interessa trovare nuovi abbonati e quindi convincere più persone possibili che ha senso e merita il post diciamo che tu gli dia qualche soldo ogni mese il vero core business infatti questo argomento qua è stra interessante specialmente nel contesto delle informazioni sui social perché tu dici il post ha un modello di business che incentiva direttamente la produzione di contenuti di qualità perché vi basate sul numero di abbonamenti attivi di persone che pagano per dei contenuti a pagamento del giornale però un'azienda che magari fa solo o diciamo quantomeno primariamente informazione sui social direttamente o indirettamente è portata a polarizzare magari alzare il volume della voce cercare una reazione emotiva e questo perché? perché naturalmente la sostenibilità finanziaria come poi dicevi tu prima dipende dal successo dei post dei contenuti sui social di queste aziende secondo te questo specialmente per quanto riguarda l'informazione sui social è effettivamente un rischio e in generale è possibile identificare una formula che permette effettivamente di fare un'informazione proprio intenzionale sui social oppure no? allora si può fare nel senso che gli strumenti dei social media sul piano editoriale ti permettono davvero di costruire dei prodotti secondo me molto interessanti nel senso che pensa soltanto a TikTok o ai reel o alle storie su Instagram cioè un contesto in cui tu hai su uno schermo video, immagini, suoni, testi tutto messo insieme può venire fuori la classica banalità che vediamo in giro però possono venire fuori dei contenuti che catturano l'attenzione cioè molto sofisticati è un tipo di linguaggio che è diverso da quello puro dell'immagine o puro del testo il punto è far stare in piedi un'azienda certo quando tu sei sui social media sei in un terreno di cui ovviamente non controlli le regole domani Facebook Instagram cambia qualcosa l'algoritmo e via tu non sei padrone nemmeno della community che hai dei tuoi follower perché domani di nuovo fanno una selezione degli account sui bot eccetera e tu ti vedi dimezzato l'audience o la reach rispetto alle cose che fai con Facebook è capitato notariamente qualche anno fa e poi le regole che decidono quali contenuti ottengono più visibilità non sono quelle dei contenuti di maggior qualità ma come dici tu magari quelli che generano più reazioni e tutto questo secondo me rende molto rischioso costruire un'azienda cioè che deve essere in grado di programmare di scalare le cose tant'è che però chi fa questo mestiere lo sa è molto raro secondo me vedere delle start up anche che fanno informazioni sui social che fanno soltanto quello fanno i podcast fanno il libro fanno gli eventi dal vivo fanno i gadget se vuoi fanno anche un sito cioè devi trovare degli altri modi più sicuri la newsletter ti permettono di avere gli indirizzi mail delle persone è una roba non algoritmica io te la mando e ti arriva non è che Google decide se ti arriva o no ed è molto efficace come mail marketing ed è ancora oggi molto efficace per cui comunque c'è un grosso rischio secondo me se i social media sono l'architrave della tua azienda devi sperare ogni mattina che qualcuno a palo alto o a mountain view non decida che ma si è visto in questi mesi con Instagram e com'è cambiato Instagram deve essere proprio un'integrazione di canali che la struttura su oppure deve avere tanti social appunto tra l'altro stai su Instagram stai su TikTok stai su Facebook hai un podcast hai una serie su YouTube e allora dici più o meno riuscirò ad adattarmi alle nuove forme che prenderà questo tra l'altro visto che voi a settembre se non sbaglio anche voi siete sbarcati proprio su TikTok con i video si per adesso in un modo stealth per cui qualcuno se ne è accorto ma non abbiamo annunciato siamo su TikTok perché stiamo ancora facendo un po' di esperimenti però si no ma starci ovviamente non solo è giusto ma è necessario cioè non puoi non starci il punto è starci in un modo integrato ecco e quindi starci con la consapevolezza che quello è un pezzo delle cose che fai se quella è l'unica cosa che fai secondo me ti prendi un bel rischio un bel rischio sempre a proposito di social io ultimamente mi sono drogato di contenuti su Sam Bankman Freed e sulla frode multimiliardaria di FTX che solo per diciamo contestualizzare un attimo molto molto semplicemente era la terza piattaforma di compravendita di criptovalute al mondo fondata da questo imprenditore americano giovanissimo Sam Bankman Freed che poi ha deciso di usare miliardi di dollari degli utenti dei clienti di questa piattaforma per coprire delle operazioni di investimento di un fondo legato ad FTX perché dico queste robe? perché effettivamente l'idea di fake it till you make it e proprio il culto della personalità è sempre stato molto legato alla cultura della Silicon Valley secondo te sta storia qua che è stata obiettivamente enorme cambierà un po' la narrativa oppure la Silicon Valley rimarrà la stessa? io non credo che cambierà la narrativa perché non è nemmeno il primo scandalo Elisabeth Holmes stavo pensando proprio a Elisabeth Holmes altri sono più piccolini se vai in Silicon Valley ormai ti dicono che al primo round di investimenti te lo danno ma sul nulla cioè nel senso adesso un po' meno però si comunque ci sta però insomma è un grande vantaggio di quel posto lì ma poi appunto riesce a far fiorire delle cose che magari all'inizio non hanno una forma ma poi la trovano però è un posto in cui il tipo che arriva vicino al sole si schianta è considerato un incidente che parte ed è anche molto una bolla la Silicon Valley è una bolla in cui cioè è colpa di Sam Bank Manfred se è andata così non è che ci sia qualcosa nel sistema che non funziona e dal loro punto di vista forse hanno anche ragione quello è un posto del mondo piuttosto specifico non è che tutto il mondo debba o possa funzionare in quel modo lì ma che quel posto del mondo funzioni in quel modo ha prodotto tantissime imprese che oggi hanno un ruolo centrale nelle vite delle persone nel bene e nel male come si dice in questi casi per cui ha anche senso poi chiaro la legge deve fare il suo corso in questo caso c'è una truffa non è un semplice fallimento di un'azienda c'è una truffa e c'è anche forse questa è una cosa secondo me su cui qualche lezione si può imparare una certa ingenuità nel senso che c'è una parte di appunto utilizzo fraudolento dei soldi e risparmiatori come si dice ma anche se ho capito bene la vicenda un non essersi preparati adeguatamente come invece una banca fa rispetto alla prospettiva che ci sia una corsa agli sportelli cioè le banche devono sottoporsi a una serie di stress test pazzeschi e una un sito che permette di fare trading di criptovalute non ha questo tipo di standard e loro non si aspettavano il collasso del valore del criptovalute il fatto che la gente vendesse tantissimo e si sono trovati completamente scoperti di fronte però a un fenomeno che non è certo il primo la corsa agli sportelli nella storia di questo tipo di realtà economico e finanziaria quindi anche molta ingenuità e restando sempre invece in tema America un altro discorso che volevamo affrontare è quello proprio della concezione del fallimento che è estremamente diverso rispetto a come visto qui in Europa ma soprattutto in Italia cioè in America ovvero la patria del capitalismo sicuramente si punta molto diciamo all'efficienza almeno sulla carta anche alla meritocrazia ma questo sistema crea anche diciamo un altro lato della medaglia ovvero tutte le persone che non riescono a raggiungere questo livello di efficienza vengono un po' possiamo dire lasciate indietro no? a livello sociale e quindi contestualizzando diciamo questo tipo di discorso un po' con il mondo imprenditoriale americano tu vedi questa concezione del fallimento in America come qualcosa proprio radicato nella loro cultura o come diciamo un mito questo di fallire in fretta che dicevi anche tu prima che si è poi andato a creare perché appunto questi imprenditori non volevano fare la figura di quelli che restano indietro in una società capitalista domanda molto interessante perché devo dire a volte noi ci raccontiamo qui in Italia la cultura del fallimento negli Stati Uniti in un modo che io magari per i miei limiti però non ho mai visto con questa serenità ah gli americani si fallisci di prova caspita io vi sono un sacco di americani che sono falliti sono falliti male anche perché quello è un posto in cui se fallisci la casa te la tolgono rapidamente se perdi il lavoro perdi anche la copertura sanitaria cioè qui abbiamo molte più reti di protezione è molto più facile fallire in Italia almeno sul piano di quello che ti accade poi sul piano del giudizio e degli altri quello forse è un altro discorso però secondo me la faccenda lì per capirla la devi come girare e guardare da un'altra parte l'America è la patria diciamo dei libri di autoaiuto delle frasi motivazionali e quella è molto una frase motivazionale gli americani si vogliono incoraggiare quando se hai fallito poi hai ancora una chance se cadi rialzati gli americani guardano lo sport che guardano di più di tutti è il football che è uno sport che è fatto costantemente di questa roba qui prendi una botta fortissima ti rialzi e ricominci quindi è parte della loro cultura non vuol dire che sia facile fallire la vera cultura che io invidio a volte agli americani e su cui c'è veramente una grossa differenza secondo me non è tanto quella del fallimento è quella del tentativo è quella dell'inizio io ho una insegnante d'inglese a Milano americana lavorava per una scuola di inglese e a un certo punto ha deciso di mettersi in proprio lui si è aperta una partita IVA e ha cominciato a dare elezioni e lei mi ha raccontato quando ho preso questa decisione l'ho raccontato alle sue amiche i suoi amici americani e italiani e dice tutti gli amici americani gli dicevano beh brava ma anche dire ma che aspettavi no? giusto così lei aveva un contratto a tempo indeterminato tutti gli amici italiani gli hanno detto ma no ma sei pazza ma che hai fatto incredibile ma erano onestamente preoccupati e spaventati per lei perché aveva lasciato il posto fisso per mettersi in proprio ora questa è una grossa differenza culturale la differenza del provarci io sono cresciuto in una cultura in un ambiente molto sano e ho la fortuna di aver avuto un'infanzia felice circondato dai libri, dalla cultura ma non mi è mai balenato da quando ero bambino nessuno mi ha mai suggerito l'ipotesi che io potesse aprire una mia impresa nessuno mi ha mai detto che quella potesse essere una mia strada né a scuola né ai miei genitori e non è che gliene faccia una colpa però oggi penso magari la mia vita sarebbe stata diversa magari hai fatto delle altre cose perché escludere dal panorama il fatto che tu possa fare una tua attività negli Stati Uniti è completamente diverso la cosa che ti viene detta è che devi fare una roba tua poi magari invece finisci per lavorare come impiegato e anche un buon lavoro come impiegato ma la cosa che tutti pensano quando sono bambini è fare l'imprenditore non fare l'impiegato come per il post potete fare come content un faccio vedere il film di Checco Zalone a 10 americani da ne penso esatto ma sai è anche una questione di scuola lì tantissimo io a scuola si studiano un sacco di cose utili e anche un sacco di cose secondo me non così utili e poi quando diventi adulto nessuno ti ha mai spiegato delle robe fondamentali tipo che cos'è l'IRPEF come si fa una fattura che cos'è una partita IVA chi te ne spiega quelle robe lì? nessuno eppure vai dal commercialista però quelle robe lì te le deve dire la scuola come si fa un'impresa anche se poi tu vuoi fare delle altre professioni eccetera ma sono informazioni abbastanza fondamentali per vivere in una società e sì forse più degli assiri dei babilonesi diciamo con tutto il rispetto per gli amici babilonesi che ci guardano che ci ascoltano ma secondo te cambierà sta roba o no? perché comunque adesso si parla molto di più di questi temi in positivo e negativo sui social per esempio cioè la nostra generazione per esempio vede dei contenuti più o meno orientati che parlano del potenziale di fare impresa e quindi secondo me c'è almeno forse perché ho una visione molto molto settoriale molto magari in una bolla però c'è una consapevolezza si sta diciamo creando una consapevolezza sempre maggiore su questi temi secondo te porterà a un risultato effettivamente migliore in Italia da questo punto di vista in non so 10 anni oppure no? allora non lo so se dovessi scommettere direi che credo di no ma non perché al di là dei limiti o delle nostre caratteristiche culturali che possono cambiare nel tempo non so se così rapidamente non possiamo diciamo non affrontare l'elefante in una stanza cioè che è molto più difficile fare imprese in Italia e quindi se c'è questa grande divaricazione anche perché il contesto è diverso la quantità di adempimenti di burocrazia a cui si sottopone una persona che apre un'impresa in Italia è mostruosa e l'atteggiamento spesso persecutorio del fisco dello stato è incredibile la quantità di tasse è mostruosa e imparagonabile a quella degli Stati Uniti cioè mi capita ultimamente di parlare molto del Texas perché c'entra con il libro che ho scritto in Texas la tassa sul reddito è zero e quando poi magari zero non è la liquida che io vorrei e non è una cosa ideale però questo è il primo aiuta questa è la differenza in Italia chi guadagna 70 mila euro all'anno che sono persone benestanti ma non sono ricchissime sta nel primo percentile di chi dichiara di più in Italia cioè è una roba che non può produrre una cultura dell'imprenditorialità quando noi avvolto un po' stupidamente secondo me importiamo in Italia degli slogan politici americani quando Alexandria Ocasio Cortez va al Met Gala con l'abito che dice tax the rich lei dice quella roba lì in un paese in cui l'aliquota più alta per i più ricchi è tipo del 28% e allora che in quel contesto lì tu possa dire ci sono delle ricchezze mostruose tu possa dire aumentiamo la liquida di due punti percentuali forse ci sta ce ne può parlare tax the rich in Italia dove la liquida più alta è il 47% a cui devi aggiungere tutte le altre addizionali varie eccetera perché? a che serve? qual è il senso? anzi al contrario ma non che devi abbassare le tasse ai ricchi alla classe media e quindi diciamo c'è proprio una differenza di contesto che mi fa dire sono un po' pessimista sul cambiamento nei prossimi 10 anni al di là delle nostre culture e delle nostre attitudini quasi rischioso addirittura per questi aspetti comunque sì cioè io faccio il dipendente del post e ho una partita IVA per le mie attività diciamo da freelance e quindi questa roba la vedo abbastanza nella mia busta paga nelle mie attività da freelance quanto sia complicato pensare di scalare le cose quanti soldi paga la mia azienda che non vanno a finire a me più del doppio del mio stipendio questo vale per chiunque sia un dipendente e il famoso cuneo fiscale non è sostenibile far crescere un'azienda se un'azienda vuole darmi un premio e per darmi 1000 euro deve tirarne fuori 3500 cioè non funziona un'economia sana in questo modo secondo me è molto interessante una cosa che hai detto che avrà senso concentrarsi su quello che potrebbe essere il ruolo dell'intelligenza artificiale nel vostro campo o comunque nel campo del giornalismo quindi secondo te quale sarà l'impatto dell'intelligenza artificiale in generale sulla vostra professione da qui a? io credo che avrà un impatto colossale nel senso che chat GPT è abbastanza impressionante come se chiunque l'ha utilizzato io ci passo le sere a chattarci sul piano come fidanzata mi dice con chi sta chattando? io con l'intelligenza artificiale un'ottima scusa e questo è il servizio che noi utilizziamo perché è messo a disposizione delle persone gratuitamente possiamo diciamo dare per scontato che i ricercatori le aziende private stiano già lavorando su prodotti più evoluti di quello e sappiamo diciamo qual è la curva con cui cresce la potenza di calcolo per esempio delle macchine cioè non è davvero difficile immaginare che tra un anno ci sia una roba ancora molto più evoluta di chat GPT io immagino per esempio che ci possano essere intere collane di libri scritti dall'intelligenza, di romanzi e che magari le case editrici competeranno per avere l'intelligenza artificiale che scrive in un modo piuttosto che in un altro che saranno riconoscibili e tutta una gran serie di contenuti anche giornalistici ma o di bassa qualità o che richiedono un basso impegno tipo le didascalie delle fotografie che voi diciamo ma chi se ne frega però c'è della gente oggi pagata che fa queste robe il copywriting delle didascalie dei post, i pezzi che raccontano il terremoto, com'è andata la borsa oggi già in molti giornali vengono scritti con dei bot e tutta questa parte qui sarà spazzata via e tantissime altre cose secondo me le intelligenze artificiali saranno molto in grado di farle il punto è che serviranno professionalità che sanno insegnare le cose, l'intelligenza artificiale ovviamente e su tutta una serie di lavori e su tutto quello che non puoi fare stando saluto davanti al computer gli esseri umani continuano ad avere un vantaggio competitivo pazzesco cioè andare in giro, vedere le cose, scoprirle, parlare con le persone far parlare alle persone che non vogliono parlare senza torturarle però diciamo costruendo delle relazioni e tutto questo è insostituibile forse ci sarà un po' una scrematura non lo so, non so nemmeno se auspicarlo o no però secondo me avrà un grossissimo impatto soprattutto su quei siti, su quei prodotti che sono progettati come delle macchine da click facciamo le cose virali, utilizziamo il clickbait, SEO, vario, tutta quella roba la diciamo arriva un computer e lo sa fare meglio di te quindi secondo te più positivo o negativo? cioè potrebbe essere un rischio o un vantaggio? allora proprio per la vostra professione dal mio punto di vista io lo penso più un vantaggio un vantaggio penso che sia più un vantaggio più un aiuto però adesso non voglio fare quello che se la tira però perché noi cerchiamo di lavorare e ripeto ci cerchiamo e con tutti i nostri limiti e con tutti gli errori che facciamo però puntando a un livello di qualità alto se fossi in un altro tipo di giornale sarei più preoccupato perché vedrei quella sei più sostituibile sì più minacciosa ok certo cioè se io fossi quello che tira giù le foto di diretta le otte e fa le gallerie fotografiche e lui è un attimo a rischio giustamente e io direi quella roba lì mi ruba il lavoro nel giro di due anni non tanto se non hai già iniziato a farlo se non hai già iniziato a farlo anzi poi ti genera anche direttamente l'intelligenza artificiale le foto di diretta le otte direttamente senza operarle apposta direttamente appunto appunto lì entriamo in un settore di chi sono quelle foto no? di che è la proprietà di quelle foto lì tipo deepfakes anche un altro argomento allucinante però c'era quel famoso discorso su le intelligenze artificiali che guidano le automobili quando noi guidiamo una macchina prendiamo delle decisioni e a volte la decisione è investo quella persona o mi schianto sul palo lì ognuno di noi decide cosa fare sul momento l'intelligenza artificiale cosa fa? chi glielo insegna? se sono tre persone? se sono bambini? se sono anziani? cioè è tutto quella roba lì in cui il computer decide al posto nostro e noi diciamo al computer cosa deve decidere sarà molto delicato anche sul piano diciamo etico democratico non so come dire sono delle decisioni molto io non le vorrei lasciare al settore privato non potrei nemmeno dire che mi fido tantissimo del settore pubblico rispetto a chi decide se tu potessi tornare indietro quindi ormai a una decina di anni fa quando stai appunto entrando nel post comprerei bitcoin lo faccio anche io questa risposta è effettivamente Angela no amazon comprare delle azioni ci sta se tu appunto tornassi indietro e potessi incontrare te stesso dieci anni fa ok caspita a parte di comprare bitcoin o dove investire che consigli ti sentiresti di dargli al netto delle esperienze che appunto hai accumulato in questi anni in tutti i tuoi viaggi e tutte le tue esperienze? allora dieci anni fa era il 2013 io lavoravo al posto da tre anni avevo già mansione diciamo di coordinamento della redazione ma non ero formalmente vice direttore ed ero molto inesperto e al di là di dire a quella persona diciamo che stai tranquillo che le cose andranno per come vuoi che vadano probabilmente una cosa che direi a quella persona lì è di imparare meglio l'inglese che io ho imparato in un modo a parlare fluentemente più tardi rispetto a quando ho imparato a leggerlo e a scriverlo è un'altra di quelle cose che la scuola italiana non insegna le persone anche questa roba la diamo per scontata ma è enorme ed è catastrofica probabilmente direi a quella persona di di non passare troppo tempo in redazione cioè in quella fase della mia vita io ero molto assorbito dal post che era appena nato per una start up e nelle start up voi sapete che al di là di Elon Musk si dorme sul divano si vive per quella roba lì ed è un'esperienza umana anche bellissima nel senso che poi si creano dei legami molto forti però probabilmente io forse un po' troppo in quella fase lì mi sono immerso nel post e avrei potuto anche coltivare qualche altro interesse qualche altra cosa per cui poi quando diventi un po' più grande diventa un po' più difficile colmare quel tempo e non pensi che proprio questa tua dedizione sia stata in realtà la chiave del successo? probabilmente sì come si dice bisogna essere ossessionati quella roba lì sicuramente ha avuto un ruolo però è vero anche che magari questo successo per usare la parola che sono tu sarebbe arrivato comunque facendo anche un po' meno poteva arrivare in un altro modo poteva arrivare dopo non è necessariamente la cosa più importante adesso non voglio fare quello che ci sono cose più importanti nella vita certo che sì però sono molto felice che i miei libri vendano e che Morning vada bene nel senso non è che siamo ipocriti però ecco sono ancora molto alla ricerca di un equilibrio soddisfacente tra le mie attività lavorativa e il resto della vita e non l'ho ancora trovato e non so se si può trovare però avrei potuto cominciare prima mentre invece la mia partenza a Milano al post è stata vivere per quella roba là e poi ho cominciato con fatica a costruirmi anche delle altre cose probabilmente partendo prima oggi avrei un rapporto un po' più più sano sì anche con quel lavoro che faccio che faccio un po' più sano e poi ho fatto un po' più sano